Maria, la sorella di Gesù Cristo, prende in mano una Smith & Wesson 9 mm custodita nella credenza della cucina, addormentata lì da innumerevoli anni senza che ce ne sia mai stato bisogno. Questo spettacolo racconta la storia di una ragazza che prende una pistola, attraversa tutto il paese e va a puntare questa pistola in faccia a colui che il giorno prima gli ha fatto una violenza durante la passione vivente. Apre il tamburo cromato e verifica che dentro ci siano tutti gli otto proiettili argentati. Con un movimento letto della mano richiude il tamburo e si affaccia sotto la veranda della porta principale di Villa dei Santemi in fondo a Via dei Martini nella zona del Monte del Diavolo, al numero 27, in aperta campagna. Io ho scritto lo spettacolo anche pensando a questa condizione, cioè il fatto che sia un uomo a raccontare la storia di una donna, cioè che il genere maschile prenda coscienza di quanto potere ha per poter poi cambiare le cose. La zanzarera in legno sbatte violentamente sul suo cardine tanto da risvegliare la nonna, che come ogni giorno è dispersa tra le pentole. I tegami intenta ribollire, ripassare, saltare, soffriggere, mantecare, rosolare, scottare, dorare tutta quella miriade di ortaggi e legumi e frutti e frumente e farine che la stessa Villa dei Santemi produce ogni anno in modo copioso, ma senza dimenticarsi della qualità. Lei passa ad essere dalla sorella di Gesù Cristo a Maria, cioè con un nome proprio, un'identità propria, e si ritrova davanti al suo carnefice con questa pistola in mano a decidere che cosa fare. Ma Maria non risponde. Tira sulla sua Smith & Wesson a 9 mm, alza il cane e spara due colpi in aria per assicurarsi che lo strumento sappia ancora produrre la sua musica. Io ho immaginato un po' che Maria, attraversando il paese, attraversi un po' una piccola passione, quel tono educato. Man mano che si vedeva Maria camminare sotto il sole, si era scostumato. Era diventata affermazione a mezza bocca prima e spuderata e poi Maria, spiazzata in un primo momento per tutta quell'attenzione, aveva deciso semplicemente di ignorarli dopo, quindi non percepiva le variazioni di tono, non sentiva tutte quelle frasi che allodevano a tutto ciò che di lei si vedeva sotto il sole. Caponi aveva detto una volta e poi neanche più quello. Le tavole sono fatte da Massimo Pastore, un bravissimo disegnatore bolognese con il quale abbiamo lavorato più e più volte. Questa storia sta diventando la storia, una cosa che è poi di tutti, di tutto il paese, forse addirittura di tutta la nostra onorata società, forse addirittura di tutta l'umanità. Giulia, lisci capelli neri, neri occhi profondi come due pozzi orientali, presente, e poi ancora Agata, Costanza, Lena, Assunta, sono tutte lì, tutte presenti, che guardano prima Maria e poi la madre di Santo Pingone, poi ancora Maria, che non le guarda ma ora sa, non le guarda ma senti, non le guarda ma ora che sa, perché sono tutte in quella camminata. Questo attraversamento del paese racconta sia l'Italia, anche se lo spettacolo è collocato negli anni Ottanta, sia invece anche le figure archetipe con i quali si viene a confrontare Maria. Un'Italia che è dominata da una cultura assolutamente a dominio maschile. La società, la cultura, l'istruzione è costruita in modo tale da confermare costantemente questo dominio maschile. Non so cosa mi è venuto, mi è venuto di reagire, e allora sono venuto lì, ti ho preso per il culo, ti ho tirato su, e allora è successo qualcosa Maria, qualcosa dentro di me è successo. Mentre ti tenevo su, i ragazzi mi guardavano e ridevano, e tu tremavi sotto le mie mani, è successo qualcosa dentro di me. Per sottolineare la forza della storia abbiamo deciso di avere una scena molto semplice, insieme a Matteo Gozzi abbiamo appunto stabilito di non avere niente in scena, se non che due microfoni, dove a uno dei quali faccio delle citazioni da su in su, l'arte della guerra, proprio a sottolineare che c'è un'arte della guerra e non una dell'amore. Sei pronta Maria, tu sei pronta per la grande rivelazione, non è forse così, non è forse così Maria. Non svelo qual è il finale dello spettacolo, perché io lascio la pistola in mano allo spettatore, vado a buio e lascio ad ognuno la possibilità di decidere che cosa fare in quella condizione. Avanti spara, spara Maria, fallo.